Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Una vasta distesa d'aria fredda sta coinvolgendo tutta l'Europa dell'Est, accompagnata da nevicate intense. Questa vasta distesa d'aria fredda, sotto la spinta dell'anticiclone, ad occidente, come possiamo vedere dalla grafica, sta giungendo in questione sull'Italia, con drastico caldo le temperature su tutta la penisola, ed in modo particolare su comparto adriatico. Saranno possibili deboli e sporadiche nevicate anche a quote colinari sui rilievi adriatici. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per martedì 29 novembre. Aria sempre più fredda sta giungendo sulle nostre regioni. Durante la giornata saranno possibili deboli e sporadiche nevicate, lunghi rilievi della Basilicata e della Puglia centro-settentrionale, oltre 400 metri di quota. Temperature in drastico calo anche di 7-8 gradi, con massime sui 3-4 gradi e minime sotto zero nelle zone interne delle nostre regioni. Venti freddi e forti dei quadranti nord-orientali. Per quanto riguarda i mari, da molto mosso ad agitato il canal d'Otranto e lo Ionio. Passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, dove ringraziamo il nostro telespettatore Ennio Mascia per questo bellissimo scatto di faeto nei Monti Dauni, immerso nella nebbia. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleapula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.